61 scatti che catturano prospettive insolite o momenti inconsueti su tutto il territorio napoletano. Nato quasi per gioco, il concorso Napoli Inedita ha riunito un gruppo di fotografi non professionisti invitati a raccontare con una sola immagine il loro punto di vista sulla città. Il tema del contesto era una Napoli inedita, cioè una Napoli mai vista, non la solita cartolina, il golfo di Napoli, la rizzo, il mandolino, ma è stato chiesto loro appunto di esprimere attraverso uno scatto fotografico quello che per loro è Napoli. Diciamo una fascia che va dai 20 ai anche 65-70 anni, ci sono anche fotografi maturi, cittadini maturi. La competizione assegnerà quattro premi attribuiti, uno dalla giuria di esperti, i fotografi Antonio Scolamiero, Vittorio Sciosa e Sergio Siano, uno dai visitatori col voto in un'urna di cartone, uno dalla giunta cittadina e uno infine dagli stessi partecipanti. Fino al 31 maggio le fotografie saranno esposte sul piano ammezzato dello scalone principale di Palazzo San Giacomo, dove un tempo furono alloggiate le prime cabine telefoniche della città. Il successo è stato tale che avevamo pensato di fare anche altri nuovi incontri su altri temi riguardanti sempre la città. Ad oggi sono stati imbucati circa 800 voti. Si può visitare la mostra dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, presentandosi all'ingresso di via Imbriani con un documento di identità.